Saad Hariri, premier attuale del Libano, sarebbe finito nei guai per colpa di una relazione extra coniugale con una modella del Sudafrica. Si chiamerebbe Candice Van der Maru. La relazione sarebbe venuta a galla per colpa del fisco del suo paese, che le avrebbe chiesto conto del tenore di vita extra russo che ha condotto. Davanti alle richieste dell'erario, Candice non ha potuto fare altro che andare a confessare, un caso disvelato da New York Times che ha creato una vera e propria rivolta negli diversi social network. Hariri in questa settimana avrebbe annunciato una nuova manovra a livello finanziario, lacrime e sangue, per colpa della crisi. Uomo è sposato, tre figli. Aveva una reazione invece da tempo con una bella bionda sexy modella. Tutto sarebbe iniziato quando la ragazza, che dichiarava 5.000 dollari l'anno, si sarebbe comprata una megavilla a Cape Town. Il fisco stava indugiando, o meglio, sospettando, che la ragazza occultava i soldi del papà. Un imprenditore dire che in passato ha avuto già problemi con le tasse. Vi ringrazio per l'ascolto e il video termina qua. Dunque, l'uomo avrebbe pensato fatto ben 16 milioni in regali a questa bellissima, sensuale e affascinante ragazza. Tutta curve, seno prosperoso, sodo, occhi molto belli e grandi, capelli lunghi di colore biondo, ranato, e soprattutto un fisico da pin-up. Ma la ragazza avrebbe disvilato il tutto per evitare guai con il fisco. Una storia questa incredibile, ma che sembra essere effettivamente vera. La super sexy modella che ha inguagliato il premier libanese Hariri. Così, si legge nel web. Grazie a tutti, un saluto caro da Leandro, il vostro narratore italiano.